Da simbolo del degrado delle periferie, al luogo di ritrovo per tutti gli appassionati del fumetto della provincia. La seconda edizione del Bitonto Summer Comics ha trasformato nello scorso weekend Villa Silos, per tutti la Contessa, nella tana dell'anime. Gare di cosplay, giochi di ruolo, tiro con l'arco, spazi dedicati al gaming, un concerto con le colonne sonore dei cartoon. Il festival, organizzato dall'Associazione Davide delle Cese e dalla libreria Amelin, è stato un successo organizzativo e di pubblico. La Due Giorni ha registrato circa 2000 partecipanti, provenienti da tutti i paesi limitrofi, che hanno occupato i locali di Villa Silos, per la prima volta da quando è stata recuperata al centro di una manifestazione di rilievo. Grande soddisfazione tra gli organizzatori, che hanno raccolto i frutti di una scommessa partita ufficialmente solo lo scorso anno e che apprende dalla tradizione di alcuni importanti eventi dell'Interland. Bitonto TV ha incontrato Domenico Sicolo, Vito Vittorio De Santis e Domenico Schiraldi, dello staff del Bitonto Summer Comics. Ritengo fondamentale che questo tipo di eventi sia volano di economia sostenibile, infatti manifestazioni di questo genere coinvolgono tutto l'indotto turistico. Pensiamo che quest'anno ancora di più, voglio dire, in una location decentrata e non nelle piazze principali della città, essere riusciti a portare e quindi a far anche lavorare una serie di attività commerciali nel campo del food, nel campo del fumetto, nel campo dell'editoria e quant'altro, sia una scommessa diciamo vincente, perché qui essere riusciti a portare qui in periferia gente interessata e aver dato una boccata di ossigeno in questo momento di crisi che è conclamata a livello internazionale, credo sia un modo per sostenere l'economia e quindi è una scommessa importante, ancora più importante da vincere. C'è stata una preview nel 2013 con Cartoon Night, che è stato un po' il motore che ha fatto partire poi il Summer Comics con la collaborazione preziosa, perché l'Associazione delle Cese ha avuto l'idea di fare il Cartoon Night con tutte le musiche dei cartoni animati e poi con la collaborazione vincente con Amerin e con il dottor Domenico Schiraldi abbiamo allargato il discorso del Summer Comics alle fumetterie e quant'altro. Per il 2016 i propositi sono quelli di allargare ulteriormente gli orizzonti con nuovi progetti musicali che sono in cantiere e che non vogliamo svelare per anche creare un po' di suspense e con nuove attività commerciali che hanno deciso di investire alla luce dei riscontri positivi di questi due anni. Desidero ringraziare le istituzioni che hanno contribuito a rendere possibile il Summer Comics, in primis il sindaco dottor Michela Baticchio che ha creduto fortemente sin dal primo momento a questo progetto e ci ha sostenuti, con l'assessorato alle politiche giovanili del dottor Domenico Nacci. Un ringraziamento anche a tutti i fornitori, in primis anche lo stesso Silvano Intini che ci ha creduto e si è messo a completa e totale disposizione. Il personale che sta curando in questo momento la custodia e la tutela di questa splendida struttura che sono stati davvero fantastici, gentili e disponibili e quindi se il Summer Comics può considerarsi un successo è un successo di una sinergia di persone che si sono mosse nella stessa direzione. Grazie a tutti. Esattamente, una riconferma e anche una crescita in questa location stupenda che è Villa Silos e sin dall'inizio abbiamo deputato a luogo ideale perché veramente presenta dei locali ristrutturati che sono fantastici per le attività inerenti al fumetto e degli spazi all'aperto che sono meravigliosi adatti per le attività collaterali a questo mondo che sono quelli dei giochi dal ruolo dal vivo, del software, delle rievocazioni, dei giochi all'aperto. Quindi secondo me è architettata in una maniera perfetta proprio per evolvere la situazione dell'anno scorso. L'anno scorso siamo andati un pochino più sul sicuro con una manifestazione al centro storico quindi ha avuto molto il merito di sfondare un po' il muro di gomma e di far conoscere questo mondo a un tipo di popolazione che ne è ancora estraneo. Quest'anno la scommessa era più alta però l'abbiamo vinta perché la gente ci ha raggiunto nonostante sia una zona periferica e ci ha raggiunto da Bitonto, ci ha raggiunto da fuori Bitonto, da Taranto, da Brindisi, da Foggia e quindi sono venuti qui perché erano interessati a questo evento esattamente. Dieci anni, infatti in realtà questo Summer Comics è stato proprio concepito e nato anche come maniera di celebrare questo decimo anniversario. La libreria Amelin è nata come un sogno da me, da Gianna e Rita Lomangino che sono mia cognata e mia moglie e siamo riusciti da una scommessa iniziale a farne qualcosa di abbastanza grande. Ci siamo evoluti in Liberia Amelin e Amelin Cartoon Studio come scuola di fumetto che ha preso vita propria e poi adesso questo evento che appunto festeggia i dieci anni di una libreria specializzata per ragazzi a Bitonto con tutte le persone che sono stati i nostri collaboratori fidati in questo periodo. I numeri ci sono stati, li stiamo ancora calcolando, però ieri abbiamo stimato una presenza di 2000 persone per tutta la giornata ed è stato positivo perché noi temevamo che lo scontro Summer Comics-Mare fine luglio potesse risultare così un tantino a nostro svantaggio. In realtà è stata una manifestazione seguitissima, ieri è venuta tanta gente già da ieri mattina, ieri pomeriggio c'è stato il boom e oggi ci aspettiamo di raddoppiare perché oggi c'è il concertone finale con le stelle di Okuto. È stata una scommessa vinta quella dell'afflusso di pubblico e davvero oggi ci aspettiamo di inondare la contessa con una fiumana di gente, di colorarla ancora di più. Io la Formula Vincente credo che sia la passione che noi, io quel pazzo di Vito De Santis e quel pazzo di Domenico Sicolo ci abbiamo messo perché il tutto parte comunque da una passione da parte nostra per questo mondo. Domenico Sicolo lo fa di mestiere con la libreria, io e Vito siamo appassionati dei manga, comics che comunque hanno rappresentato la nostra infanzia alla fine. Noi siamo cresciuti a pane e cartone animati, quindi quando abbiamo deciso di mettere insieme due anni fa l'iniziativa è stata davvero una sfida perché io credo che in Puglia eravamo davvero tra i primi a organizzare, poi la cosa è cresciuta e sicuramente la formula è la nostra passione. La formula è anche il coinvolgimento delle persone che siamo riusciti a creare e anche la sinergia che è nata perché poi noi in tre abbiamo fatto diciamo nel nostro piccolo quello che abbiamo potuto, però c'è stata tanta gente che ci ha dato suggerimenti, che ci ha proposto di mettere quel personaggio piuttosto che quell'altro e una formula che se volessimo calcolarla verrebbe qualcosa di chilometrico perché davvero sono tantissime le persone che hanno contribuito alla manifestazione.